Longarone Fiere Dolomiti si sposta momentaneamente dalla sua sede abituale, il complesso fieristico che solitamente ospita le manifestazioni e raggiunge il Cansiglio. In programma durante il mese di settembre due appuntamenti dedicati il primo alle foreste, il secondo ai 1600 anni dalla Fondazione di Venezia. Un segnale di ripartenza che passa attraverso la valorizzazione delle gname bellunese e delle antiche arti ad esso collegate. Abbiamo voluto fare questo per dimostrare che la fiera di Longarone Dolomiti, anche in ossequio il nome Dolomiti, è una fiera per tutto il bellunese, non solamente per l'area di Longarone. Quindi due eventi che invitiamo tutta la popolazione a frequentare sono la fiera festiva delle foreste Boston Nord-Est che si terranno nelle giornate del 10, 11 e 12 di settembre in Cansiglio e il ricordo dei 1600 anni della Serenissima con la presenza di artigiani, di barche, di gente che lavora sul legno, il club alpino italiano, tutto ciò che ricorda questa relazione millenaria con lo stato della Serenissima e il bellunese, nei giorni invece del 18 e 19, quindi sabato e domenica, sempre sul Cansiglio. Dove in Cansiglio? Quando voi percorrete la strada che taglia il Cansiglio, che percora il Cansiglio, a un certo punto c'è l'ufficio di Veneto Agricoltura. Di lì parte una strada di asfalto che sale su verso il pendio e arriva fino ad un hangar, che era una base missilistica della Nato, trasformato in sala conveni. C'è un grande piazzale che è stato coperto da dei tendoni che permettono di mettere dentro tutta una serie di imprese, ma anche di enti, di istituzioni, una bellissima gondola, un bellissimo moussin che verrà restaurato proprio davanti a voi. E quindi c'è la possibilità, lungo questa strada, anche di assaporare dei prodotti del bellunese, ma anche di vedere delle imprese che lavorano direttamente con grandi macchinari sul terreno, che fanno vedere come si tagliano gli alberi, come si fanno le strade. Naturalmente per l'accesso sarà necessario seguire tutte le regole sanitarie in vigore. Green Pass è, caso mai, per chi non ha il Green Pass, che verrà controllato, quindi portatevi il Green Pass, diamo un servizio di tamponi, cioè la possibilità per coloro che non hanno il Green Pass di fare un tampone ad un prezzo assolutamente stracciato.